Ehm... Gento... Vado avanti? Ah 20 Perché non è così... Tipo... Mi va tutto lento in gioco adesso tipo... Non fluido... Mi va sotto alle case rosse... Deve spacciare. Sì sì sì... qua sopra So salendo sopra allora non vedo nessuno da qua vieni qua che mettiamo il palo vieni qua vieni qua lascio il giro vieni qua stai guardando dentro no sto facendo il singolo ero dentro la casa ho sentito uno che sta arrivando da fuori lo aspettavo davanti la porta chiusa sto qua per la porta e ti chiam colpo di ancia generato io ti ho una bombata in testa qui e e e e e e e e Noi Grazie a tutti. Anzi dove c'è il kit ci sarebbe usciuto qua sotto. Qui davanti. Con la mano per l'aria hai quasi personalizzati che entri? Ehm, è notissimo. Ho un torneo personalizzato, è vero. No, 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 no. Ehm, è vero. No, 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 no. Vero? Eh? Vero, apro dietro di noi. Lasciano lì. Che su. Io non voglio... tanto l'armi che le ho. E comunque nel team facilmente non siamo tutti. Sustamente adesso che Luca lavora un sacco. Oddio. Spaventano. Grazie a tutti. 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 Ok. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh... 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 Oh...